Grazie a Stantec, ogni giorno riesco ad essere ingegnere ambientale e mamma, senza troppe rinunce e senza di colpa. Infatti, in Stantec, diventare mamma non è un ostacolo alla carriera, anzi, io stessa sono stata assunta al 6 mese di gravidanza. Ricordo ancora quando al colloquio l'ho annunciato, pensando di poter perdere questa opportunità. E invece sono ancora qui e grazie allo smartworking riesco a lavorare in maniera più serena e più efficiente. Questo mi permette di raggiungere tutti gli obiettivi aziendali e di conciliare al meglio il lavoro con la mia vita privata.